Ciao ragazzi, ballate? No, no, no. Cantate? No. Facciamo del canto a cappella, ma soprattutto facciamo del beatbox. Ah, beh. Tutta la nostra musica è fatta solo con le nostre voci. Tutti suoni, Paglia. Tutti suoni. Ok, let's go. Ladies and gentlemen, for you tonight, four guys, four voices. Let's go. La bella è tua, che è? Ma stai scherzando? È assurdo. So clap, 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 so clap. So clap, so clap, so clap, so clap, so clap. So clap, so clap, so clap. No, 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 no No, 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 no No, 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 no